Credo che sia stato un incontro veramente efficace, perché in genere queste occasioni convegnistiche a volte danno modo più di parlarsi addosso che di dire veramente quali sono i problemi da affrontare. Vedere insieme operatori del settore, operatori dei controlli, parlare direi la stessa lingua, cioè sollecitare le stesse esigenze, sollecitare le autorità a prendere iniziative che vanno nella direzione della giusta equità fra la concorrenza, la libertà di concorrenza che è vitale per il mercato e la sicurezza che è altrettanto vitale per tutti noi, per tutti i cittadini. Mi sembra che possa essere considerato un risultato importante di queste tre giorni, di questa occasione di oggi e credo che se ne potranno dare indicazioni sia a livello degli operatori pubblici sia a livello degli operatori privati. Indicazioni per lavorare meglio, per fidarsi gli uni degli altri e per andare verso appunto un mercato più coeso. Speriamo che anche da Bruxelles vengano notizie un pochino più confortanti di quelle che abbiamo sentito.